Quattro nuovi contagi su 502 tamponi processati con il tasso di positività allo 0,7% e quanto emerge dall'ultimo bollettino ASREM. I casi riguardano Campobasso, Civita Nova del Stagno, Iserni e Limosano. Ma ci sono anche otto guarite, due nel capologo di Regione, tre a Portocannone, uno rispettivamente a Campomarino, Guglionese e San Martino in Pensilis. Gli attualmente positivi sono 94, mentre le persone ricoverate sono 6, di cui 5 in malattia infettiva e una in terapia intensiva. Non ci sono vittime nei nuovi ricoveri. Il contagio dunque sembra rallentare in Molise dopo il focolaio individuato nei giorni scorsi nella casa di riposo Pistili di Via delle Frasche a Campobasso. Dei 26 contagiati tra ospiti e operatori, un anziano si è già negativizzato. La situazione dunque è sotto controllo e va lentamente normalizzandosi, anche perché i contagiati sono per la maggior parte asintomatici, alcuni presentano sintomi lievi. Nel frattempo, attorno alla struttura resta il cordone sanitario innalzato con ordinanza del sindaco Gravina, firmata poche ore dopo l'esito dei tamponi positivi. Il provvedimento prevede l'isolamento temporaneo della casa di riposo, da cui nessuno, escluse le persone autorizzate, può entrare o uscire. Nel frattempo, lo stesso sindaco ha richiesto alla protezione civile regionale l'allestimento di alcune tende da campo davanti alla casa di riposo per rendere l'isolamento del personale meno gravoso. Intanto, nella giornata di domani, gli ospiti e gli operatori della struttura potrebbero essere sottoposti nuovamente a tampone per avere il quadro della situazione più chiaro e capire se il contagio stia realmente rientrando.